Leandro! 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 Per noi, non per il cane Allora facete l'artificiale, facete la macchina Guardate un uomo, quanti uomo fa? Guardate un uomo, guardate un uomo Guardate un uomo, guardate un uomo Guardate un uomo, guardate un uomo Si dice no, no ha problemi, niente No, semi artificiale, semi artificiale Non, non, non Non, non, non Non, 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 non Non, 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 non Ma come forza? Non sta bene Non sta bene Non sta bene Non sta bene Alza, la stagasse Pena di testa No, no, no Non sta bene Si, si è un grande problema Per questo E' un uomo 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 E' un uomo